Grazie. Signor Ministro, una visita questa che ci riempie di gioia e ci propone un modello di governo della nazione non ancorato agli agi del palazzo, ma presente ed attivo sui territori, anche quelli piccoli e disagiati come il nostro. Una vicinanza non formale, ma fatta di reciproca considerazione, di comunità di intenti, del desiderio profondo di cambiare il corso delle cose, che viaggia prepotentemente nelle menti di quella cociuta gente del sud, che con tenacia, passione e tanto spirito di sacrificio, nonostante tutto resta qui. La cieca della natura, abbattutasi con particolare ferocia, ha seminato disastri e sconfotto, nelle nostre case, le attività economiche e commerciali, portando stagelo e distruzione. L'amministrazione provinciale, oltre ai nostri operai e alle ditte private, ma tantissimo resta ancora da parte. Ed oggi, dopo la conta dei danni, la consapevolezza della vicinanza del governo nazionale, che dopo la visita del premier Giuseppe Conte il 23 novembre scorso, il nostro ministro.